Vai nemici Traster, vieni, 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 che li facciamo tutti, vieni, vieni, vieni Uno è andato, uno è andato, uno è andato, un altro Vai, 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 un altro ancora, un altro ancora Regà, l'ultimo video di Abbiamo Rapito Sky è arrivato a 40.000 visualizzazioni Mi raccomando, continuate a supportare questa serie perché continueremo a farla e porteremo tutti quanti i boss mitici e li rapineremo tutti Li rapiremo, come si dice? Rapineremo? Eh, rapiremo Siamo qui infatti con Traster, oggi abbiamo due nitroglicerine, per quale motivo? Perché andremo a rapire proprio lei oggi, sei carico? Eh, io molto Ok, allora, direi di iniziare subito e non perdere altro tempo, buttiamoci subito in partita Allora, ci dobbiamo buttare subito, il pozzo è qui sotto e dobbiamo trovare nitroglicerina che io non ho mai trovato, non so dove si trova Ed è per questo che ci aiuterà Traster a trovarla, penso... Eh, io lo so dove sta Ok, io no, non ne ho idea, minimamente Cioè, potrebbe essere in tre posti, tipo là, no, qua Ok, là O laggiù Ok, io vado a vedere lì giù, allora Oppure qua Ma... è forte? Ti giuro non l'ho mai vista Ma è molto forte Mai vista sul gioco Che ti fai tirato di tutto Mai vista sul gioco, mai incontrata? Non penso di essere mai buttata al pozzo in vita mia Se non una volta, forse Oh! Oh, scagnozzo Va bene Non capisco, non capisco È un po' difficile, è un po' difficile la situazione Oh! Ma che è? È dronna Ma questo è un nemico, spero, non può essere uno scagnozzo Non può essere uno scagnozzo quello, rega Se è uno scagnozzo c'è l'inbot Ma t'ha... t'hanno fatto Sì, ma puoi venire? Penso sia uno scagnozzo Non lo so, è sal... ma... ma sciolto Avvicinate No, 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 sta sparando Ah, va, ha cucciato, ha cucciato Non mi fa cucciato Ok, siamo salvi Perché non mi fa cucciato? Va bene Ehm... no, scagnozzi ti giuro, è troppo forti Ok, buttata giù Ehm, non so se tu l'hai trovata? No, che sapete da te Ok, allora questa rapina sarà molto più difficile del solito E del previsto, direi Quindi, eh, impegniamoci perché dobbiamo rapinarla e portarcela via Per, eh, per rubarci l'arco e farci dire i segreti del suo arco e... Perché è così forte, tra l'altro Ah, qui c'è un motoscafo Vogliamo fare un giretto? La cerchiamo Ma... diciamo di sì Allora, o sta là? Allora, eccola, eh, trovata Allora, eh, thruster, sai qual è l'attacco a sorpresa? No Neanch'io Ehm, spariamogli in testa Al tre? Ok, ok, presa, 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 presa Ha fatto, fatto, fatto Nitroglicerina Spaziorina Ok Fatto, fatto, fatto Allora, portiamocela subito via Prendo il motoscafo La portiamo via dal suo abitato naturale Vai, 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 vai Rapita anche nitroglicerina, regà Dopo Sky Dopo Mida E basta Oggi siamo qui per aprire la nostra simile nitroglicerina Ah, io direi che ci possiamo fermare anche qui Siamo abbastanza lontani Oh, dove è andata? Oh, oh, oh Ma... Come ho fatto a morire? Perché è morta? Ma dopo cinque secondi è morta Ah, non c'ho... Allora, io lo so che è successo Non ci voleva dire i suoi segreti Ma lo accetto Accetto il fatto che non... Ci ha voluto dire i suoi segreti Perché Magari, non lo so Ci voleva nascondere qualcosa sulla nuova stagione? Secondo me sì Vuole nascondereci Sì, sì Vuole nascondereci qualcosa E quindi Se è suicidata Non lo so Andiamo alla cassaforte Che non so dove sta No Ok Ragazzi vi giuro È la prima volta che apro questa cassaforte Non so se mi crederete Ma è la prima volta Allora Entriamo qui dentro E vediamo che Ma... È bruttissima sta cassaforte Non c'è niente Eh, sì È abbastanza È totalmente inutile Ma non c'è niente Vabbè Non ci lamentiamo comunque Perché abbiamo trovato un sacco di shieldini E vita, cure E... Allora Diciamo che siamo riusciti a farci dire il segreto Per vincere la partita con nitroglicerina Perché purtroppo ci è morta davanti agli occhi Che... Non so il motivo Eh sì Però L'importante è che siamo ancora vivi Abbiamo tutta la vita Tutto lo scudo Allora, allora Direi proprio Di andare via da questo posto Che non mi piace assolutamente per niente Cioè è proprio brutto Non so tu Ma Ma a sto posto mette ansia Boh È tutto vuoto Sì Anche a me Mette un po' di ansia Sinceramente Un po' No ma più che altri È tutto Tutto roto Tutto roto Tutto un po' buio Ho fatto così Di roccato Non so Non mi piace Prendiamo l'elicottero Prendiamo l'elicottero E ce ne andiamo in safe Sperando di vincerla Comunque ragazzi Fatemi sapere qui sotto nei commenti Se a voi il pozzo piace E se vi piace l'arco di nitroglicerina Che in questo momento c'è a Traster Non so se l'ha preso Lo vuoi? No 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 Era solo Un'informazione Allora Volendo possiamo andare veramente con l'elicottero Eh vabbè Non so capace Eh non so capace Non so capace Va bene Dite tutto Eh lo so Non so capace a giocare Non è colpa mia Non penso sia colpa mia Eh ti è Te lo regalo a te Eh ma io non riesco a salire fino alla sopra Non Come no? No non riesco Ho provato in tutti i modi Ma so cascato ogni volta Cioè è pazzesco So cascato ogni volta che salivo Eh vabbè Vabbè ti vengo a prendere Allora dai Dove sei? Sto sotto Con l'elicottero Oh Ma hai schizzato via Va bene Ecco qua La squadra di nitroglicerina Il duo di nitroglicerina Pronto A combattere tutti i nemici Della mappa Ragazzi andiamo a controllare Come sta il nostro Compagno Mita Andiamo A vedere un po' come Come sta Sei ancora vivo Vieni 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 Oh sta qui Ma Vieni 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 Veloce 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 Qua sotto Ma scendi Eh no c'ho paura Scendi tu Eh scendo io Vai Non c'è nessuno Ma c'era un nemico L'ho sentito palesemente Forse è andato via Forse è andato via Di qua Di qua Vai nemici Traster Vieni 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 Che li facciamo tutti Vieni 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 Uno è andato Uno è andato Uno è andato Un altro Vai 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 Un altro ancora Un altro ancora Mamma mia Le abbiamo sciolti Tutti quanti Praticamente Abbiamo Dove 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 Te lo faccio Col cecchino De no scopa Vabbè vabbè Poveraccio Ok Mamma mia Questa tripla kill Di Di lollo bollo Nessuno se l'aspettava Oh Un elicottero Eh vabbè ma tutti a noi Pushano Ma com'è Cioè in realtà abbiamo pushato noi Eh ma non lo diciamo in giro Spara il più possibile Spara il più possibile Si riesci Ho andato neanche un colpo Oh 37 Au Vieni Dove Sopra sopra con la giampa Se riesci Ok Ok abbiamo conquistato un ottimo l'altezza E siamo fortissimi In resto te lo dico Siamo fortissimi Non ci può fermare nessuno A parte i nemici Che stanno i nemici? Che stanno i nemici? Qua 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 L'ho danneggiato parecchio Oh Mi hanno fatto male Eh perché sparano da un'altra parte Mi hanno fatto male Scappa se puoi Allora raga Nitroglicerina non può arrendersi così facilmente Ed è per questo che Siamo saliti in attesa Ok Rilassiamoci un attimo Ricarichiamo le armi Con molta calma È una cosa Sta succedendo Lì L'inverosimile Abbiamo fatto un devasto Deve essere Eh sì Sì ma io da questi Non mi faccio Prendo un giro così Mori Eh non mori Ok Cascato Forse Ma questa è bellissima Mi ha rubato l'arma che c'ho io Olè 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 Mamma mia regà Eh lo scudo prima Ne faccio lo scudo Mi dispiace Ma Ok Scudini Ok Eh dai Veloce 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 Che questa partita è incredibile Non voglio buttarla per due scudini Sarebbe Un disastro Eh però se c'è un altro Sì c'è un altro gambiancino Terri animal Prossimo Dai Sì c'è Questo Ok Facciamo così Facciamo così Facciamo così Penso sia stata la scelta migliore Eh Sta uscendo fuori una partita fantastica Regà io voglio almeno 2000 like Per questo video Dato che è stato dando un supporto incredibile a questa serie Io vorrei questi 2000 like Sarebbe bellissimo Mi raccomando Se volete entrare nel gruppo telegram Dove annuncio nuovi video Dove annuncio le nuove live Dove mi date consigli per nuovi video Dove Parliamo C'è il link in descrizione Eh Un gruppo telegram con me Traster Eh Se volete entrare potete farlo E mi raccomando Un'altra cosa che dovete assolutamente fare Regà È quella di usare il codice che vedete qui sotto Cioè lollo pollo Perché Regà lollo pollo Se usate questo codice Ve lo dico Eh A parte che diventerete come Traster Quindi fortissimi E questo Cioè È scontato E poi Eh Divertente il nome pollo Cioè una volta che scrivete lollo pollo Eh Vedete pollo È bello Cioè il pollo è bello È buono Quindi fatelo La missione di oggi Oltre a quella di vincere la partita Ormai è diventata quella di salvare Traster E farlo rianimare Eh Sarà difficile Da chi? Da me Penso Non lo so Oh Eh però devo fight Mi dispiace Traster Io quando vedo nemici Non resisto Guarda là La gente dirà Eh ma stava fermo Eh lo so Quello stava fermo? Sì Ok adesso sto un po' meno fermo E è un po' più pericoloso Ops Ops Regà scusate Scusate Non volevo fa Non volevo fa Ste due kill pazzesche Regà scusate Scusate Non volevo Lo so Non volevo Uh Altro team Altro team E vabbè Ma che Ma ce l'hanno tutti con me oggi Va bene Mi prendo Oh e vabbè E vabbè Ok C'è uno scudone Non so se Ci hai fatto caso No Invece C'è sì Eh Ricordiamoci il medikit Anzi no Forse mi porto tre scildini Sono più comodi Eh regà Non so Non so che dire Veramente Sette kill 8 persone rimaste Un thraster da rianimare Che probabilmente Non verrà rianimato No no Verrà rianimato E come? In questo esatto minuto Non si lasciano Le nitroglicerine indietro Si rianima tutto quanto Regà Qui non si lascia Dietro nessuno E abbiamo fatto un patto Con la nitroglicerina Che è morta prima In realtà mi ha detto Che serve un thraster Per vincere una partita Quindi io Le credo Anche perché C'ho tipo 3000 di materiali 1000 di colpi C'ho tutte le armi Leggendarie epiche Mitiche Tipo una partita Perfetta Non lo so Allora Lasciami qualcosa Quali materiali E colpi Ah Volendo Te li lascio tutti a metà Ok Oh siamo visibili Oh Me sparano Non so perché ho detto Siamo visibili E in realtà volevo dire Siamo invisibili 100 100 100 Col Come si chiama Cecchino Oh Ma tu che cecchinate oggi Ma che sto combina Mamma mia Ma va bene Cioè ma Non lo so Ma io ho fatto tipo 100 100 a questo E' proprio esploso Mamma mia Tutta questa cattiveria Gli sono dato il laporaccio Mamma mia Thraster Ma che Hai visto Ho rianimato a te Ho fatto quella kill pazzesca Altre Altri nemici Non so Le scale mie Scherzavo Eccola Figuraccia Ok Ah se vieni qua Ti faccio un segreto del gioco Che nessuno Dico nessuno Conosce Guarda Vai Se tu vieni qua Guarda eh Premi Eh Un amico Un amico Hai visto Siamo volati via Eh M'hanno fatto pure Ma come t'hanno fatto Qua sta qua Stava là Sta qua E' sceso Entro dentro Casa Sta qua dentro Faccio lo scudo Bam Quale scudo Uh Vieni vieni Eh si Regà ma Sono diventato Un pro Pazzesco Non so se state notando Il miglioramento Che sto facendo E non è assolutamente Perché stiamo incontrando I nabi No È perché so forte Io sicuramente Allora Io non te lo voglio far notare Ma siamo rimasti Due nitroglicerine Contro uno Non so Se te ne hai riaccorto Ma adesso è il momento Di concentrarci E vincere questa partita Grazie alla potenza Della nitroglicerina Che abbiamo rapito prima Perché è stato sicuramente Merito suo Se vinceremo Se non vinceremo È perché È morta prima Senza che Ah qua c'è un airdrop In realtà a me non mi serve L'airdrop Cioè che ci faccio Allora qua c'è una jump Vieni Facciamo un piccolo volo Vediamo se c'è qualcuno Se ne massi uno Contro Cioè Eccoli Eccolo Eccolo Dove? Fammelo Fammelo a me Vai thruster Fammelo con me La farò mai perché È troppo veloce Che io non riesco a costruire Posso farlo io oppure Devo rischiare Devo farlo Devo farlo Devo farlo Devo farlo Te do sto privilegio Se ce la fai Eh non lo so in realtà La seriamolo La seriamolo in volo Preso Perché non mi serve Do si riesce più Vai Io lo pusho Non so Non so dove sta Dimmi dove sta No ma ha preso Con lancerà Thruster se perdiamo È colpa tu Ma hai sparato Con il cecchino a me Vabbè Non so dove sta Sotto 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 a me Vieni vieni qua Vieni qua Vieni qua tanto dobbiamo Tanto deve andare in safe Quindi da qua Devo uscire Lo beccheremo Cioè dove va Te lo dico è morto Te lo dico è morto Ok Non quanto te Io sono morto Ragazzi Urra Ragazzi Dieci Dieci E dico Dieci kill Va bene Ok Complimenti Ecco una ricompensa Per aver completato Va bene Grazie Delle esperienze Allora regà Anche questo video In cui andiamo a rapire Un boss mitico È giunto alla conclusione Abbiamo fatto una partita Incredibile Vi ricordo di passare Da tutti i link Che trovate in descrizione E un ringraziamento Speciale a Traster Che ci ha fatto vincere Effettivamente la partita Grazie Traster Prego Prego E niente Ci vediamo in un prossimo video In un prossimo live Bella a tutti Che ci ha fatto vincere